Ciao ragazzuoli, sono Brod Quell e quest'oggi arrivo dal lontano 1996 per parlarvi di Transformers Beast Wars o se preferite dire l'italiana Biocombat, deluxe class Dinobot. Ora, Dinobot era un personaggio bellissimo della serie animata ed è da sempre uno dei miei personaggi prediletti in assoluto che si è immediatamente meritato un posto d'onore nella mia, appena iniziata, Raptor Squad dei Transformers. No, ok, lo so, non mi faccio l'illusione di essere un figone come Chris Pratt o robe del genere però mi piace avere la mia Raptor Squad, fatevi gli affaraci i vostri. e lui è stato il primo membro, possiamo dire, in quanto questo è un giocattolo che viene da quando ero bambino. Intanto, passiamo ad analizzare la sua forma animale, ok, perché questo è il punto cruciale, vedete, la chiave di volta per la Beast Wars, oltre ad avere una serie animata che per la prima volta presentava una seppur goffa computer grafica era il fatto che i Transformers non diventavano veicoli bensì con due fazioni tutte nuove, ovvero sia i malvagi Predacon al posto dei Decepticon e gli eroici Maximal al posto degli Autobot si trasformavano in animali in carne ed ossa, organici, come potete vedere questo non è un velociraptor meccanico come può essere Slash qua dietro questo è un velociraptor in carne ed ossa ovviamente pesantemente ispirato ai velociraptor di Jurassic Park che all'epoca andava per la maggiore ora, già in forma animale presenta una flessibilità davvero buona, devo dire, visto che comunque le zampe anteriore sono su dei giunti a sfera il ginocchio articolato la coscia comunque si può muovere avanti e indietro con dei giunti davvero solidi quindi c'è un'alta posabilità comunque c'è movimento fuori e dentro, si può ruotare all'altezza della coscia, insomma senza contare poi che può anche spalancare le fauci non è affatto male quindi sì, io direi che nonostante un'apparente, diciamo, goffaggine dovuta al fatto che comunque dovevano conciliare una forma biologica con una robotica antropomorfa io lo promuovo cioè in tutta onestà la sua forma animale io la promuovo fortemente anche visto che comunque c'è una certa difficoltà nel riprodurre l'organico nel meccanico ma detto questo sulla sua forma animale io passerei anche a illustrarvi la sua forma robot allora partiamo dicendo che anche la forma robot è decisamente valida è un'ottima sagoma antropomorfa con un problema di backpack quasi inesistente essendo solo e unicamente l'attaccatura della coda è davvero ben fatto sì, ok, ha un ledissimo problema delle cosce più piccole del mondo rispetto agli stinchi però la mia unica vera lamentela rispetto alla forma robot è rappresentata da questo vedete questo pannello giallo dietro alla testa è lo stesso pezzo che va poi a formare gli occhi del robot il che mi fa intendere che ci fosse un progetto iniziale di light piping ovvero sia la pratica in transformer secondo cui facendo in plastica trasparente il pezzo degli occhi se introdotto una fonte di luce dall'alto sembra che gli occhi del robot brillino e allora perché non l'hanno fatto visto che comunque la metà del suo corpo è fatto di plastica traslucida questa non l'ho capita ammetto di non averla mai capita ma va bene oltretutto ai due lati della testa c'è una caratteristica comune a moltissimi dei giocattoli della prima ondata della Beast Wars ovvero sia questa maschera organica che va a coprire il suo volto robotico nel suo caso rappresenta un accennato cranio di dinosauro ma se andate a vedere anche comunque Blackjack per meglio dire Optimus Primal Megatron Scorpionok Wolfgang tantissimi veramente tantissimi di questi transformer dalla classe deluxe in su avevano questa maschera anche se in alcune delle ristampe successive di questo giocattolo oltre a cambiare le tonalità venne eliminata anche la maschera giusto perché non avendo effettività di gioco preferivano evitare che i bambini come è già successo in passato li staccassero a forza le due metà ora la sua arma è molto carina devo dire ovvero sia la coda del velociraptor che si stacca e si apre in due rivelando la spina dorsale ovvero sia la spada la spada si può a sua volta staccare e verrà impugnata tramite questi port dal robot e lo scudo rivela la gimmick diciamo del giocattolo ovvero sia premendo questo interruttore questo ruota diventando uno scudo rotante che vediamo ampiamente impiegato nella serie animata e anche questo viene impugnato devo dire senza alcun dubbio che questo è un giocattolo fantastico a mio parere ok e saltando già la fase successiva del video si lo raccomando assolutamente per la vostra collezione questo è un pezzo di storia dei Transformers che rappresenta non solo un'epoca di profondo cambiamento ma rappresenta anche uno dei personaggi più apprezzati di sempre cioè Dinobot addirittura è diventato un meme a causa della sua forte disciplina basata sull'onore Dinobot era bello per la sua contraddizione c'era la parte grottesca della ferocia dell'avere iniziato come Predacon e l'onore che l'ha spinto a unirsi ai Maximal quindi lui è il primo dei due importanti personaggi della serie a cambiare fazione e lui la cambia subito già dal primo episodio sia per sfida verso Megatron che cerca di tiranneggiare su di lui che appunto per proseguire la sua dottrina dell'onore inoltre Dinobot non rimane un personaggio sterile legato solo a una serie più di recente è stato ripreso dai fumetti e non posso che sperare di rivederlo in futuro anche sulle scansie delle giocattolerie in fondo non so se l'avete ancora visto nel trailer per la seconda stagione di Cyberverse appare Gepard o col nome originale Cheetor della serie Beast Wars quindi io non posso che sperare anche perché nella nuova serie spoilerata delle dei tiny turbo changers piccoli robot che potete trovare in edicola di cui con grande fierezza vi mostro Grimlock è stata presentata Black Arachnia che è un altro dei miei personaggi preferiti in assoluto col design della Beast Wars e tanto di logo dei Predacon sulla fronte quindi io non posso che sperarci che volete che vi dica allora come ho detto Dinobot è assolutamente consigliato per la vostra collezione è molto bello e secondo me proprio ha un bel impatto ha una figura che secondo me ricorda molto un un cavaliere medievale scusatemi il rumore però ci sono dei lavori in corso fuori casa come dicevo ricorda molto un cavaliere medievale con lo scudo e questa spada impugnata in modo tale da ricordare abbastanza le lance usate nelle giostre medievali per cui è di bella presenza è tuttora un giocattolo valido con delle giunture solide un'immagine che non è affatto invecchiata male e che è passibile di un di un ritorno in gloria ora potete cercare Dinobot su bigbedtoystore.com o su tfsource.com dall'ormai lontano 1996 madonna quanto mi sento vecchio ragazzuoli vi saluto lontano